La riforma della scuola e dell'università, targata Gelmini-Tremonti, assomiglia tanto alla riforma che avrebbe voluto Jean Borrasca. Meno insegnanti, meno insegnamento, meno investimenti e quindi meno futuro per le ragazze e i ragazzi, per i ventenni di oggi, nell'Italia di domani. Noi pensiamo invece ad una riforma dell'università che tagli i tanti rami secchi, che tagli i corsi dove ci sono fra i 3, i 5, i 6, i 10 studenti, le tante succursali che costano, università private che rilasciano moltissimi diplomi di laurea come fossero dei coriandoli e pensiamo a reinvestire quelle risorse risparmiate soprattutto nella scuola pubblica e nei centri di eccellenza universitaria. Accanto a questa chiederemo a tutte le forze politiche dell'opposizione di sostenere un'iniziativa forte su due punti. Carovita in modo particolare e il lavoro accanto al Carovita sono le due grandi priorità di questo tempo. Che l'opposizione proponga al Parlamento due riforme immediate, la detassazione degli stipendi fino a 1200 Euro, la detassazione delle tredicesime e soprattutto per chi ha un lavoro precario, perlomeno il godimento dei diritti fondamentali in testa alla previdenza e le ferie. Soltanto così potremo mettere a riparo una parte rilevante di questa Italia dalla crisi internazionale che l'Italia sta vivendo e potremo anche dare una risposta precisa al nostro pontefice, secondo il quale i soldi non danno la gioia, ma noi non possiamo chiedere agli italiani di impoverirsi di più per essere più felici.